Sono venuti a fare un giro del fantastico mondo dei parrucchieri e della loro arte. Ci troviamo all'interno dell'area Academy, Capelli Area Academy di Grotta a Mare e vogliamo saperne di più appunto sulla formazione, non solo per chi vuole intraprendere il mestiere e crescere sempre di più, ma anche per i parrucchieri professionisti che hanno voglia di aggiornarsi. Ne parliamo con il responsabile Carlo Neroni. Carlo, ci rivolgiamo soprattutto ai giovani che vogliono appunto imparare il mestiere. Che tipo di formazione offre la vostra Accademia? Allora, la nostra Accademia è un'Accademia che ha un metodo e un sistema, chiaramente con una qualifica internazionale. Questo significa che facendo l'Accademia nella nostra sede oppure in ogni altra parte del mondo o dell'Italia e si acquisisce un sistema di lavoro con appunto una relativa qualifica internazionale. E questo fa la differenza rispetto ad altre Accademie perché ti permette di affrontare il futuro che è sempre più internazionale. Assolutamente, vogliamo anche ricordare che l'Accademia offre la possibilità, soprattutto ai più giovani, a chi si avvicina al mestiere, anche di iniziare a lavorare sin da subito. Sì, noi siamo in contatto con molti nostri clienti parrucchieri nella regione Marche e nella regione Abruzzo, quindi i ragazzi che iniziano questo percorso riusciamo ad inserirli in uno dei nostri clienti o non clienti parrucchieri nel giro di poco tempo dopo che hanno iniziato a fare questo percorso. Ricordiamo che l'Accademia è una realtà in continua evoluzione che si rivolge anche ai parrucchieri professionisti per aggiornarsi e migliorare sempre di più. Sì, certo. Sviluppiamo un altro tipo di formazione che è rivolta a coloro che già fanno questa professione. Quindi è una formazione professionale considerata sul mercato di aggiornamento che per i parrucchieri che lavorano magari già da anni, che vogliono essere all'avanguardia, offriamo una formazione adeguata e anch'essa internazionale. Allora, io direi di ricordare a chi ci sta guardando, a chi ci sta ascoltando, dove è possibile trovare l'Accademia e anche i vostri contatti. Noi ci troviamo a Grotta Mare, provincia di Ascoli Piceno e il nostro contatto telefonico è 0735 735880 oppure sul nostro sito web www.calen.it Perfetto, grazie Carlo e ovviamente alla prossima. Grazie a te e a voi. Grazie a te e 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 a te rossa. Grazie a te e a te e a te – a te e a te per un posto web